Chi ha? E' lui! E' lui! No, lui è lui! C'è dove stanno le nostre? Il fio! Due, mica una, due! E' 65, erano per 21 da un foglio! Ma uno solo, fate come cazzo le pare! Non servono manche cose! Portate per lui! Perché devi regalare la corda dalla cappatoia, no? Sì! Lo leghi come le pare! Lo leghi bene! E' più c'è il tempo pannate! E' vero che serve! Vedi è sola proprio? Sola sola! E come fa questa la carrozzina? C'è un bel elettronico! C'è una voglia di vita a questa signora Pazzesca! Ma sai che com'è sta da sola? Che fa da sola? C'è la carrozzetta, quella elettrica! C'è la perché è il suo! Ah, è roba sua! Gli ha tirato pari tutto, no? Gli ha fatto dei 130-140 mila euro liquidi! C'è il portiere, no? No, è il sabato! Capito? Se tu il venerdizio la vieni, gli metti la carta! Eh! Poi loro quando chiudono, il colpone gli fa un schiattino! Però, se era la botta, se l'apre! Perché io penso quella lì! Quella da Luciano è vera perché è il marito! Quella è che sei marito! E si raccomandava che voleva vincere nei dì! Sì! Però non ci frega un c***o! Ci sono fattori psicologici! Sì! Che lavoriamo sui terreni! Proprio che ci stanno in via! Ed è disposta a proteggere loro! Capito? E a vita! che era un po' è così difficile! Così! 他 c***o! O mio conto è stato così! O mio conto è lì! O mio conto è stato un po' è così difficile! E poi il tuo載o è delle cose! C***o! Il tuo conto è un po' è così difficile! C***o! Poi! C***o! Grazie a tutti. Grazie a tutti.